Buongiorno a tutti, oggi è il 17 dicembre 2020 e sono le ore 9. Attestiamo la presenza dei consiglieri alla prima convocazione della prima commissione consigliare. Presidente Evola, Vicepresidente Mineo, Consigliere Forello, Consigliere Chinnici, Consigliere Sala, Consigliere Arrini, Consigliere Ferrandelli. Consigliere che nessuno dei consiglieri è presente in prima convocazione e si rinvia alla seconda convocazione all'ora 10.